Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video Oggi ho un video molto ma molto corto, durerà un minuto o due minuti Volevo dirvi che oggi è lunedì non uscirà nessun video su Crash Royale Perché uno non sono a casa mia oggi, non sono a casa, beh, non sono a casa mia Secondo, guardate che capelli che ho, uno specchio Secondo, raga, in poche parole Oh, Crash Royale mi sta facendo un aggiornamento Poi, no, Crash Royale, scusare, Mobizen, ho dovuto fare un aggiornamento quindi Devo aspettare un po', quindi oggi non posso fare video su Crash Royale Domani uscirà il video su Slither.io, come sempre, mercoledì, Crash Royale E niente, raga, un altro specchio, sono doppio Quindi, raga, e poi magari forse un giorno uscirà il video anche sulla reazione di sabato La Roma ha vinto 4-0 con l'udinesi, io stavo all'estate, dai, domani martedì gioca a Roma Scusate se oggi non c'è nessun video, ma c'è soltanto questo piccolo video che lo sto registrando con la telecamera Quindi, ragazzi, vi chiedo, lasciate un like, iscrivetevi al canale E niente, raga, vi chiedo ancora, scusate E da PicoGamer tutto, iscrivetevi al canale, bella